Settimana Santa Trigiano, anche qui questa processione è composta da circa 17 simulacri e di questi alcuni sono di proprietà privata. Qui sull'orto, San Pietro, Gesù ha la colonna, Gesù ha l'ecceomo condannato, Gesù che porta la croce, la Veronica, Gesù che mi è aiutato da Cileneo, la inchiodazione, guardate che bel mistero è questo, guardate che bellezza, unico in Puglia, Gesù crucifisso che muore, poi c'è la sudazione, Gesù che mi è portato a sepolcro, Aspetta, Gesù che mi è portato a sepolcro, seconda parte, poi c'è il Gesù morto, e infine c'è la dolorata che è identica a quella di Bitondo, guardate che bellezza, guardate la dolorata, guardate che dedica proprio Bitondo, come se fossimo in Siviglia.